Vuoi imparare a realizzare un bracciale come questo con del filo di rame e delle pietre dure? Bene, allora seguimi dopo la sigla! Ciao a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Questo sarà un video in voiceover perché quando ho registrato questo tutorial purtroppo non avevo voce. Per realizzare il bracciale che vi ho mostrato all'inizio del video e con i materiali che mi sono stati inviati da BB Craft utilizzeremo questo set di pinze che state vedendo in video, il flash cutter, le pinze piatte, eccetera eccetera. Poi ci serviranno il rame da 1 mm, che è quello che mi è stato inviato da BB Craft, e quello da 0,8 mm, che è un rame colorato in maniera permanente. Utilizzeremo poi le pietre dure della valigetta, che appunto sono queste che vedete inquadrate. Io ho scelto queste qui sull'azzurro, non so di che tipologia di pietre si possa trattare. E la prima cosa che dobbiamo fare è quella di tagliare circa un metro, un metro e venti di rame da un millimetro, che poi andrà piegato a metà, come sto facendo appunto all'interno del video, che ci servirà come struttura sulla quale avvolgere il rame da 0,8, nel quale poi andremo ad inserire le pietre. Con la pinza, con le ganasce di plastica, vado a appunto creare questa sorta di cappietto, che poi ci servirà per chiudere il nostro bracciale, e vado a raddrezzare i fili di rame che ho appunto piegato a metà, in questo modo qui. Lo faccio più volte, devo sostituire le ganasce della pinza, tra l'altro, e appunto questo è il risultato finale, in questo modo saranno più dritti e più stabili. Vado a sistemare un pochino anche il cappietto, diciamo così, che sarà il nostro gancio, anche con le ganasce di plastica. Ho dimenticato di dirvi che ovviamente tutti i materiali ve li lascio ovviamente in descrizione. Adesso andiamo a tagliare appunto circa 50-60 cm di filo da 0,8 mm, poi vi regolate in base anche alla lunghezza del bracciale che volete realizzare. Io sto facendo in questo modo qua. E iniziamo avvolgendo il filo da 0,8 mm attorno al cappio che abbiamo realizzato in precedenza. Creo 6,7 avvolgimenti che vado a sistemare man mano con la pinza, e poi alla fine vado a sistemare appunto tutti gli avvolgimenti, anche il cappio con la pinza con le ganasce di plastica. Poi alla fine aprirò in due il filo di base, diciamo, e inserirò al centro il filo con cui abbiamo creato gli avvolgimenti, sul quale andremo ad inserire le pietre. Ecco qui. Adesso è il momento di inserire le pietre sul filo centrale. Io per questo bracciale ho utilizzato 16 pietre, sono un po' poche perché poi risulta molto molto aderente al mio polso che è di circa 14,5 cm, ma per una misura ottimale standard, diciamo, vi consiglio di inserire 18 pietre da 6 mm. Queste sono tutte pietre da 6 mm. Quindi adesso le vado a inserire sul nostro filo e man mano inizieremo la lavorazione che sarà semplicissima e vi darà un risultato veramente molto molto carino. Ovviamente questi bracciali si possono realizzare in tantissime colorazioni e anche alternando varie tipologie di pietre per un effetto ancora più movimentato. Vi consiglio poi di creare una sorta di asolina alla fine del filo centrale per non far scappare le pietre e iniziamo ad avvolgere il filo di sinistra. Va prima sopra e poi sotto il filo centrale. Adesso vado ad avvicinare un pochino l'inquadratura per farvi vedere meglio i passaggi. Ecco qui. Allora, il filo di sinistra praticamente lo dobbiamo spostare al di sotto della pietra, deve essere molto molto aderente alla pietra e poi lo avvolgiamo sul retro in questo modo qui. Poi passiamo col filo di destra lo facciamo passare al di sotto e lo spingiamo di nuovo verso destra in questo modo qui. Poi facciamo salire una nuova pietra quindi questo è il passaggio che dobbiamo ripetere per tutto il bracciale. Facciamo salire una nuova pietra e ripetiamo il filo di sinistra prima sopra lo spostiamo bene bene sotto la pietra e lo giriamo intorno all'anima centrale quindi da destra a sinistra. Ecco qui. E ripetiamo la stessa cosa con il filo di destra va al di sotto e poi lo spostiamo al di sopra del dell'anima centrale. Fate aderire bene i fili in modo che appunto non si creino spazi tra le varie pietre. Quindi ripetiamo filo di sinistra al di sopra poi lo avvolgiamo al centro così filo di destra lo portiamo all'indietro ecco qui e poi lo spingiamo verso destra di nuovo facendo aderire perfettamente il filo. Questo praticamente è il passaggio che dobbiamo ripetere per tutte le pietre. Adesso velocizzo un po' questo questo passaggio e vi faccio vedere appunto qual è il risultato finale. Adesso vado a prendere una delle pinze che mi è stata inviata da BB Craft con appunto tutte queste scanalature e vado a creare l'uncino diciamo il gancio che ci servirà per creare la nostra chiusura e vado semplicemente ad avvolgere il gancio prima sulla parte un po' più larga e poi sulla parte un po' più stretta della pinza e praticamente la parte una delle parti della nostra chiusura è pronta. Ora dobbiamo andare a creare la chiusura anche dall'altro lato. Io qui praticamente avevo utilizzato poco filo e quindi sono arrivata giusto giusto con i fili e quindi che cosa ho fatto? Li ho attorcigliati intorno alla lavorazione e sono andata a creare la chiusura quindi la solina con il filo centrale che mi avanzava quindi qua vado a tagliare appunto le parti in eccesso delle due diciamo parti laterali e con le pinze vado a sistemare appunto questa parte centrale rendendola un pochino più compatta e adesso con la pinza sempre quella con le scanalature vado a creare la solina eccoci qui quindi avvolgo il filo intorno alla parte più larga della pinza e poi vado semplicemente ad avvolgere come se volessi fare un nodino ad orefice qui vado ad avvolgere i fili intorno ai fili che abbiamo già avvolto in precedenza poi vado a tagliare il filo in eccesso con il nostro flash cutter questa è la solina ecco qui e vado a sistemare gli spuntoni come sempre poi io ho curvato il bracciale prima di martellare la solina ma vi consiglio di martellare prima la solina e poi di curvare il bracciale questo è il risultato finale però dobbiamo appunto rendere più solida più stabile la solina e devo dire che indossato è veramente bellissimo e adesso andiamo a martellare la solina con il martello e io uso questo blocchetto qui in modo da dare una struttura più solida e stabile al nostro bracciale e il tutorial è terminato io vi ringrazio tantissimo per la visione di questo video ringrazio BB Craft per avermi fornito i materiali questo è il risultato finale fatemi sapere e mi raccomando nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo tutorial di perline un bacione e alla prossima ciao